Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario è dedicata alla tragedia familiare che si è consumata ieri a Gela. Una mamma ha ucciso le sue bambine di 9 e 7 anni e le ha avvelenate con la candeggina. La donna è stata di arresto per duplice omicidio ed è piantonata in ospedale. Fatemi morire, sono le prime parole che l'infanticida ha detto ai medici che la stavano soccorrendo in ospedale. Poi, quasi a giustificare il suo folle gesto, ha raccontato alla psichiatra che la visitava che l'ho fatto per il bene delle mie figlie, per non farle soffrire. Era certa che il marito l'avrebbe lasciata a conclusione di un rapporto di coppia assai difficile. Vediamo. Sarà il medico legale Cataldo Raffino dell'Istituto di Medicina Legale di Catania ad eseguire nel pomeriggio di oggi l'autopsia sui corpi di Maria Sofia e di Gaia, le due sorelline di 9 e 7 anni che frequentavano l'Istituto Sor Teresa Valsè di Manchitella, uccise ieri dalla madre Giuseppa Savatta di 41 anni, nella propria abitazione di Via Passaniti, nel centro storico di Gela. Il medico dovrà stabilire in particolare se le bambine sono decedute per avvelenamento, essendo state costrette dalla madre a bere candeggina o per soffocamento, considerato che sulla gola delle piccine sono stati riscontrati segni di un'energica pressione, quasi uno strangolamento. La donna avrebbe poi tentato il suicidio ingerendo della candeggina e tentando di impiccarsi col tubo flessibile della doccia dove il marito, Vincenzo Trenito, di 48 anni, ingegnere, docente presso l'Istituto per Geometri Ettore Majorana, l'ha trovata alla sua rientra a casa, riuscendo poi a bloccarla mentre si dirigeva verso il balcone col proposito di buttarsi giù. Giuseppa Savatta è in stato di arresto con l'accusa di duplice omicidio aggravato dall'averlo commesso sui discendenti. La donna si trova ancora piantonata in ospedale per aver tentato di ingerire qualche sorso di candeggina. Fatemi morire, sono le prime parole che Giuseppa Savatta ha detto ai medici che la soccorrevano in ospedale ieri, subito dopo la scoperta del duplice infanticidio e del tentativo di suicidio della stessa donna. Poi, quasi a giustificare il suo folle gesto, ha raccontato alla psichiatra che la visitava che l'ho fatto per il bene delle mie figlie, per non farle soffrire. Era certa che il marito l'avrebbe lasciata a conclusione di un rapporto di coppia assai difficile. Ma il marito, pur ammettendo l'esistenza di dissidi familiari, avrebbe detto che una rottura netta con la moglie non era nelle sue intenzioni, anche se più volte minacciata nei momenti d'ira. Intanto, dalle indagini coordinate personalmente dal procuratore Fernando Asalo e condotte dai carabinieri, emerge che la donna, insegnante di sostegno alla Ettore Romagnoli, con incarico a tempo determinato di sei ore settimanali, era sempre precisa, puntuale, seria. Qualche alterco c'era invece all'interno della coppia, poiché il marito insisteva affinché la donna, colpita dalla scomparsa del padre e suicidatosi nel 2008, consultasse qualche medico. C'erano, ha detto il marito e gli inquirenti, delle discussioni, ma non l'avrei mai lasciata, non avrei mai potuto prevedere quanto è accaduto. E adesso vi proponiamo un intervento del professore Nicola Malizia, criminologo dell'Università Core di Enna, che scandaglia i diversi aspetti della personalità dell'omicida intrafamiliare, considerato dall'opinione pubblica semplicemente un assassino. Sentiamo. Sì, qui siamo in presenza di quello che viene definito un omicidio intrafamiliare a carico di minori. Noi eravamo in una situazione di quasi separazione, per cui questo potrebbe essere stato anche il motivo scatenante. Ricordiamoci che una madre che uccide i propri figli si immerge in una condizione che io definisco biologico inversa, nel senso che la madre, anzi rispetto al padre, è sempre più protettiva nei confronti delle figlie. Quindi probabilmente bisognerà indagare il meccanismo che ha spinto la madre ad uccidere le proprie figlie. Molto spesso si tratta di un rifugio in una situazione, in una sorta di giustificazione per quello che ha compiuto. Molto spesso si tratta in questi casi di figlicidio altruistico. E quindi la madre compie l'omicidio dei figli per sottrarli ai mari del mondo, per salvarli dalla sofferenza di esistere. Oppure per una futura condizione di separazione che in un certo senso in molte donne rappresenta la distruzione della famiglia. Siamo abituati quando trattiamo questi casi a valutare la situazione pregressa ante omicidio. Sicuramente i segni ci saranno stati. O sono stati volutamente, diciamo così, non presi in considerazione dall'unica persona che stava lì dentro, che quindi era il marito, e o non sono stati riconosciuti, o come molto spesso capita, l'omicidio riesce a nascondere qualsiasi atto che possa, in un certo senso, annunciare un futuro omicidio. Siamo in presenza di una depressione ciclica ben conformata, con esiti stagionali, probabilmente anche amplificati da situazioni contingenti, come la possibilità di una separazione, di un divorzio, etc. Diciamo che un soggetto che vive in questo stato depressivo è un soggetto in continuo allarme e la famiglia o tutti i membri dovrebbero essere altrettanto in allarme, per cui qualche segno sicuramente sarà venuto fuori. E' una madre che uccide, in questo modo anche molto, diciamo così, crudele o cruento, le proprie figlie, besta sempre nell'opinione pubblica un grande sconcerto e una grande attenzione. Però dobbiamo anche dire che, certamente, come ho detto prima, è un'inversione biologica relativa al fatto che una madre uccida i propri figli, soprattutto le bambine, anche perché non dobbiamo trascurare questo legame tra i due sessi femminili, cioè tra le figlie e la madre. In questo momento l'unica cosa che l'opinione pubblica, l'unico sentimento che l'opinione pubblica nutre nei confronti di questa donna è quella di considerarla una sostina. Ma attenzione, perché a Monte ci sono, purtroppo, anche se questo è proprio il massimo della negazione della società e della nostra cultura nei confronti dei figli, purtroppo ci sono anche delle cause psicologiche, anche contratti psichiatrici, che in un certo senso potrebbero anche aver costretto questa donna. Naturalmente è mai giustificabile per gli atti che ha fatto, potrebbero aver spinto questa donna in una condizione, possiamo dire, di semi capacità di intendere e di volere o annullamento nel momento esatto in cui uccideva della sua capacità di intendere e di volere, per cui potrebbero essere rintracciati tratti di assoluta incoscienza. È difficile da gestire da parte dell'opinione pubblica, ma questi purtroppo sono fatti che nella letteratura criminologica sono annoverati molto spesso. Questa mattina con le nostre telecamere abbiamo raccolto la testimonianza dei residenti di Via Passaniti, il luogo in cui si è verificata la tragedia. Sentiamo. Lei conosceva le bambine? No, non le conoscevo proprio, nemmeno di vista, non le conoscevo. Neanche la famiglia? No, a papà lo conoscevo, papà lo conoscevo, non lo conoscevo. E come ha saputo della tragedia? Niente, sono venuto qui in Via Passaniti a lavorare, ho sentito delle voci, sono corso pure a vedere cosa era successo, vedere la successa di una tragedia. Sconvolgente? Ah, sicuramente, certo, la perdita delle bambine. Ho sentito israeli, i carabinieri, e ho guardato e ho detto, ma poi sono arrivato qua e ho trovato il casino nel senso che c'erano, che quella aveva accesa. La conoscevate, lei conosceva le bambine? Ma no, perché le vedevo ogni tanto, raramente la mattina quando le accompagnavano a scuola. Abbiamo sentito una signora vicino a casa mia, signore, signore, ha sentito l'ambulanza, l'ho sentito, però non so dove. Ma lei non conosceva la famiglia, le bambine? No, 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 mai. E cosa pensa di quello che è accaduto? Mi dispiace, mi dispiace molto, i bambini di più, i bambini. Esattamente, lei conosceva la famiglia? Io personalmente no, 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 non l'ho mai vista. E com'è venuta a conoscenza della tragica notizia? L'ho venuta a conoscenza tramite, mi sembra mia moglie ha visto su Facebook, adesso non mi ricordo bene. E' una tragedia immane e ferata, cioè, senza parole. Lei aveva posteggiato l'auto sotto l'abitazione dove si è consumata la tragedia. Quando è andato a riprenderla intorno alle 12.45, non c'era nulla? Assolutamente nulla, io non ho notato nessuna cosa che andasse fuori dall'abitudine quotidiana che non lavoro lì vicino. Solitamente parcheggio lì. Io fino all'una meno un quarto era tutto normale, tutto irregolare. C'era una serenità? Assolutamente, come tutti i giorni. Non ho notato nulla, non ho sentito nulla e poi ho sentito una notizia successivamente tramite giornali, voglio dire, è stata divulgata la notizia, ma oltre quell'ora. E conosceva lei le bambine, la famiglia? Assolutamente no, non so se di vista qualche volta, se rivedo qualche foto, ma non conoscevo la famiglia, assolutamente le bambine completamente. È una tragedia che sconvolge tutti. Assolutamente, proprio in questo periodo, altro che pace, questa è proprio una tragedia. Io la famiglia la conosco, sono il medico della mamma di lui, dell'ingegnere Tranito. Malgrado io ho il mio ambulatorio medico e ce l'ho di fronte alla casa, purtroppo dove è successa questa tragedia incredibile, non ho avuto a che fare né con le bambine, né pure con la signora che ha compiuto questo gesto deprecabile, ma neppure con l'ingegnere. Lei ogni mattina però vedeva le bambine con la mamma andare a scuola? Io devo dire che non le ho mai viste, ma non perché voglio fare il reticendo, oppure perché penso che debba... Io non le ho mai viste andare a scuola insieme, non ho mai visto la mamma. Io ho dei ricordi con la primogenita che quando aveva due o tre anni, ogni volta che io passavo mi chiamava dottore, dottore, ciao, ciao. E io la salutavo e mi fermavo a parlare con lei, per quello che poteva dire. E poi io rientravo nel... ma poi, non so per quale motivo, non si sono affacciati più dal balcone e addirittura alla secondogenita io non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata per strada. Forse perché la mamma la sottraeva alle cose di ogni giorno, questo non lo so dire, ma io non l'ho mai vista. Una famiglia chiusa? Ma non lo so. Ormai la vita ci riserva, famiglie chiuse, famiglie aperte, tutti i problemi che ci sono per il lavoro, per comunque la difficoltà a comunicare, a stare vicino alla gente, a parlarsi tra loro. Perché può capitare che, come diceva Papa Francesco, invece di pensare ad altro, dovremmo aiutare, dovremmo occuparci di chi ci sta accanto. questo non si può dire. Fatto sta e che comunque, penso che come me, tanta gente stanno notte non ha potuto dormire per quello che è successo. Una notizia sconvolgente. Sconvolgente, sconvolgente. Poi per chi ha poi dei figli, per chi ha una famiglia, per chi poi si cerca di darsi una spiegazione, non è semplice, non è facile. Bandiere a mezz'asta al comune di Gela, in segno di lutto. sentiamo il sindaco, Domenico Messinese. Una notizia che ha sconvolto la quotidianità di ognuno di noi. La morte di due sorelline lascia basiti, interdetti. Lascia riflettere. Lascia riflettere. Sono quelle situazioni che nessuno di noi vuole vedere, non vuole sentire. Sono fatti che sicuramente colpiscono. però è successo e non dobbiamo prendere solamente atto. È chiaro che tutta la città è stata scioccata da questo evento, si è visto camminando per le strade. Credo che le persone l'unica cosa che ho percepito è stato proprio lo sgumento dell'evento che nessuno si aspettava, nessuno si poteva immaginare una cosa del genere. è chiaro che però bisogna prendere atto che è successo e basta. Bandiere a mezz'asta al Palazzo di Città stoppa la filodiffusione. Le chiedo pure ci sarà proclamato il lutto cittadino? In ando questo è stato un attimo per insegno di rispetto di queste morte così giovani, di queste innocenti che tutta la città credo che desiderava per quello che sono riuscito a percepire per avere quest'attimo di riflessione interna, un attimo di rispetto per chi non c'è più. Chiaro che la vita continua, ancora la giornata non è stata almeno non mi è stata comunicata quando saranno celebrati i funerali però diciamo che credo non è questo importante. L'importante è diciamo che si prende atto di quello che è successo e basta non evitiamo qualsiasi tipo di strumentalizzazione di qualsiasi parola diciamo che è in più di quella che ho detto non ci sono parole per poterlo commentare nemmeno per fare valutazioni che non hanno nemmeno senso. E' il primo sentimento che ha provato quando ha saputo della tragica notizia? Ma credo che è il sentimento che hanno provato un po' tutti. sono rimasto scioccato e non ho avuto nulla da ridire fra le altre cose io conosco il padre quindi la mia prima reazione è quella di mettermi nei suoi panni e devo dire che mi sono sentito molto male. Un minuto di silenzio per esprimere dolore e rispetto verso la tragedia di Via Passaniti il Consiglio Comunale ha voluto ricordare così Maria Sofì e Gaia le bambine di 9 e 7 anni morte tragicamente ieri mattina l'assise civica dopo la proposta del consigliere Salvatore Gallo ha votato all'unanimità il rinvio della seduta domani mattina tutto il consiglio con la Presidente Alessandra Ascia in testa è stato d'accordo nel rinviare la seduta domani celebrando la porte chiuse senza telecamere senza diretta streaming non è da escludere che il gettone di presenza di oggi in caso spettante presente al momento dell'appello possa essere devoluto in beneficenza interrotta questa mattina la fornitura idrica ai serbatoi di Montelungo e Caposoprano a Gela a causa della rottura di un tratto di condotta nei pressi di Via Venezia da oggi e fino al ripristino non ci sarà distribuzione nelle zone di Manfria Marchitello e Macchitella Fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi martedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati conferire giornali quotidiane riviste libri e quaderni privati da altri materiali fotocopie e fogli usati imballaggi in cartone cartoni per pizza solo se puliti contenitori in tetrapack vuoti privati dei tappi lavati e scolati scatole per alimenti e nonna buste sacchetti zucchero e farina scioper in carta tovaglie in carta non unte depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fondi di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto ben tornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale continua fino al 6 gennaio prossimo nei locali del palazzo di città la terza mostra dei presepi presepi in comune realizzata dalle scuole locali promossa dall'associazione turistica Proloco Gela l'iniziativa il cui ingresso è gratuito manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva che sta alla base del progetto turistico della Proloco i presepi come simbolo di rinascita verità e giustizia frutto del lavoro dei ragazzi delle scuole dell'artigiano artista della raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività è presente anche una bancarella di beneficenza del Soroptimist Club di Gela la mostra potrà essere visitata dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 20 e 30 il 6 gennaio è prevista anche una pesca dell'epifania potrà essere visitato da oggi al 30 dicembre dalle 18 e 30 alle 22 e 30 il presepe vivente allestito nella suggestiva piazza Santa Madre Teresa di Calcutta antistante la parrocchia Santa Maria di Betlemme a Gela retta da Don Giovanni Tandurella è stato ricostruito il villaggio di Betlemme con strutture semplici in cui è stata inserita la natività e le ambientazioni tipiche dell'epoca con la rappresentazione di alcuni degli antichi mestieri e presso il Dipartimento di Salute Mentale di Gela in Via Madonna del Rosario al numero 8 diretto da Franco Lauria il personale in servizio è allestito un presepe per ricordare la natività il presepe può essere visitato da tutti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 dei giorni feriali e il sabato dalle 10 alle 13 agevolare i medici nella loro attività e offrire ai cittadini servizi online evitando loro lunghe file d'attesa con questo intento l'ASP di Caltanissetta ha ampliato il sito istituzionale offrendo nuovi servizi da oggi infatti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno accedere a servizi online nell'apposita area loro dedicata sul sito www.asp.cl.it un nuovo sistema grazie al quale i medici oltre a tenere aggiornati i propri orari di ambulatorio e rendere note altre informazioni all'utenza potranno gestire la campagna vaccinale di screening oltre che prenotare prestazioni ambulatoriali in fase avanzata anche l'iter per permettere lo scambio di referti quando disponibili agli utenti al momento sono già disponibili online i servizi per i cittadini di richiesta cambio medico e rilascio di esenzione per reddito e a breve sarà possibile effettuare online la prenotazione e pagare i ticket oggi presentiamo le nuove possibilità che stiamo attivando per poter rendere un servizio più adeguato sia a chi opera nel settore della sanità in questo caso specifico per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta però questo sito sarà utilizzato anche dai cittadini che cosa stiamo presentando oggi la prima cosa che stiamo presentando è la possibilità per i medici di medicina generale di accedere al sito e avere il loro cedolino poter eventualmente pulire le liste dei pazienti che hanno in carico e segnalare eventuali errori e quindi allineare tutta la loro attività per quanto riguarda la connessione con l'azienda attraverso il sito in un prossimo futuro e abbiamo già uno scadenzario noi attiveremo la possibilità da parte dei cittadini di poter anche prenotare quelle che sono le prestazioni che dovranno effettuare quindi gestire la loro prestazione pagare i ticket e utilizzare tutti i servizi dell'azienda questo tutto attraverso uno smartphone un telefonino che adesso oggi è di uso comune per tutti quindi questo tipo di attività che avevamo già annunciato da oggi si parte e a mano a mano che noi andremo ad attivare i vari servizi e i vari settori noi ne daremo comunicazione c'è anche un altro servizio importante che oggi metteremo in campo è quello di poter comunicare direttamente con tutti i medici di medicina generale o attraverso un sms o attraverso una mail per comunicare quelli che sono i passaggi oppure particolari novità la confcommercio Gela sta avviando i corsi sulla sicurezza si tratta del corso RSPP responsabile del servizio prevenzione e protezione di 16 ore rischio basso e del primo soccorso di 12 ore rischio basso e medio gli interessati possono effettuare l'iscrizione presso la segreteria della confcommercio Ascom Gela in via Cicerone al numero 104 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 c'è anche un numero di telefono per informazioni 0933 93 97 18 come era stato anticipato dall'assessore Giuseppe Tuminelli durante il consiglio comunale tematico sul futuro dell'anterna RAI l'incontro tra Raguay e l'amministrazione c'è stato a gennaio sarà effettuato un sopralluogo congiunto per controllare lo stato dei luoghi e dei beni che vi afferiscono intanto manca ancora la valutazione economica del bene rispetto ai costi di gestione che pare arriveranno dall'azienda di Stato a breve un dubbio che aveva già espresso durante il suo intervento in consiglio comunale l'assessore Tuminelli che ancora non è stato fugato è la messa a norma rispetto alla sicurezza aerea pare che durante la riunione non siano state date delucidazioni sufficienti sul punto ormai appare chiara la volontà dell'amministrazione di acquisire il bene anche adesso sollecitata ed impegnata da un atto di indirizzo del consiglio comunale in tal senso l'antenna RAI della quale un modellino è stato esposto durante la seduta che ha portato all'atto di indirizzo è stata valutata a 534 mila euro circa ancora mancano tuttavia gli atti formali che come il vincolo paesaggistico da parte della sovrintendenza in un iter che pare aver preso l'avvio lo dichiarò a suo tempo il sovrintendente durante la riunione che si è tenuta traenti al comune e manca ancora una delibera per l'acquisizione o meglio la delibera fu redatta durante l'amministrazione campissima mai votata intanto numerose sono state le forze sociali che si sono esprette a favore del mantenimento del bene dalla Proloco che ha organizzato un cominatato a favore dell'antenna ad Italia Nostra una proposta che è arrivata dal Movimento 5 Stelle è stata invece quella di mettere in atto un referendum popolare per chiedere direttamente ai cittadini di esprimere il loro pensiero sul destino dell'antenna RAI siamo allo spettacolo proseguono gli appuntamenti nell'ambito della 82esima stagione concertistica organizzata dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela oggi alle 19 nei locali del Palazzo di Cultura Principessa Roviano Pignatelli si terrà il concerto lirico di Angela Curiale Soprano Francesco Cusumano Tenore e Giovanni Raddino al pianoforte siamo infine alla informazione cinematografica in proiezione alle 17.30 al Cineteatro Antidoto il cartone animato Rock Dog alle 19 alle 21.30 invece sarà proiettato il film La cena di Natale con Riccardo Scamarcio è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui aggiornamenti nelle prossime edizioni arrivederci Grazie a tutti